Prosegue la rincorsa dell'Amen Scuola Baschettarezzo che al Palasport Estra vince contro la BNV Juve Pontedera 86-60. La squadra di Coach Serravalli conquista così la quinta vittoria consecutiva che permette alla Sbadi risalire posizioni in classifica. L'inizio gara vede gli ospiti trovare i canestri dalla lunga distanza. Meucci realizza quattro triple nel primo quarto tenendo la propria squadra a stretto contatto con l'Amen. Sul finire di quarto gli Amaranto cambiano passo con un parziale di 14-3 che vale il 30-17 della prima sirena. Nel secondo quarto si accende anche Giusti, Pontedera si riavvicina prima che l'Amen riesca ad andare a riposo lungo sul più 10-47-37. Nella ripresa gli Amaranto continuano a trovare con facilità la via del canestro allungando il vantaggio per il break decisivo dell'incontro. Gli ospiti infatti non riescono più a punire la difesa retina con il tiro da tre punti ed il divario tra le due squadre aumenta prima sul 64-45 di fine terzo quarto, poi sull'86-60 finale dopo un ultimo quarto amministrato dall'Amen. Alla fine 5 gli Amaranto in doppia cifra ma soprattutto la SBA ha avuto il merito di tenere a quota 60 realizzati Pontedera che anche nelle sconfitte aveva sempre viaggiato nell'ultimo mese a quota 80 punti. Domenica prossima Amin in trasferta a Siena contro il Costone, formazione che all'andata giocò un brutto scherzo alla SBA. E' venuta fuori la squadra, è venuta fuori l'intesa, è venuta fuori alcune trame veramente importanti che non avevamo mai visto, dico la verità, qui ad Arezzo. Ma senti, indubbiamente sono giocatori meucci e giusti, sono giocatori di spessore, sono e non li conosciamo stasera. Non li conosciamo. All'inizio sono partiti bene, hanno realizzato dei punti importanti e poi ci sono giocati la nostra partita. I primi due periodi abbiamo fatto un pochino più fatica del solito in difesa e poi dopo, sai, quando le cose non vanno abbiamo abbassato un pochino la tensione. Però insomma, nello spogliatoio poi alla fine, all'intervallo abbiamo aggiustato un paio di cosette sulle quali ci avevano messo in difficoltà. Insomma, terzo e quarto periodo siamo stati più concreti sia dietro che davanti.